Arezzo vive il suo Ponte dell'Immacolata con i numeri che insomma tutti ci aspettiamo per la città del Natale. Lei però ha fatto un invito piuttosto singolare, in questo caso immagino alle scuole. L'ho fatta alle scuole municipali perché sono le scuole che in qualche modo rispondono all'amministrazione comunale e quello di non dimenticarsi comunque di in maniera molto discreta lasciare un segno di questo tempo e l'8 dicembre sarà Natale un fatto che qualcuno lo vive in termini religiosi, qualcun altro in termini culturali, qualcuno in entrambi i casi. Io credo che l'integrazione passi anche dal rispetto della propria identità e quindi ci sono sempre stati. C'è stato un momento in cui qualcuno non li voleva fare, ora abbiamo capito che non è una cosa intelligente però ho pregato di non dimenticarsi del presepe nelle scuole. Un invito, lo ha già detto un po' lei in questa battuta, che era necessario o comunque sia è un sentire che lei ha già riscontrato? No, non era necessario, è opportuno però. So che peraltro in alcune scuole è stato già fatto ed è anche un momento di sottolineatura di una particolare fase nella quale ci troviamo. Io credo che proprio perché questa vuole essere una città accogliente, la prima cosa che fai quando conosci qualcuno è presentarti e io credo che questa sia la migliore carta per presentare la nostra città, cioè quella di ricordare un fatto storico per qualcuno spirituale, per qualcuno culturale che se si evidenzia senza voler essere eccessivamente invasivi ma volendo semplicemente ricordare quello che si è, secondo me si fa una buona cosa per tutti. Grazie. 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 Grazie.